Con numerosi precedenti alle spalle e colpito da un mandato di cattura, pensava di riuscire a farla franca, ma è finito nella rete dei controlli svolti quotidianamente dagli agenti della Polfer di Arezzo e per lui sono scattate le manette. Protagonista della vicenda, un 27enne aretino, che ieri mattina è stato controllato dalla polizia ferroviaria nei pressi dell'atrio della stazione. Nel corso dell'accertamento però il giovane improvvisamente è scappato. La sua fuga è durata poco, è stato infatti inseguito dagli agenti fino ai giardini del Porcinai e qui è stato bloccato anche grazie all'intervento di una pattuglia a piedi della polizia municipale. I successivi accertamenti hanno fatto comprendere subito ai poliziotti il perché dell'improvvisa e precipitosa fuga. Su di lui infatti pendeva un ordine di esecuzione per una pena da scontare per reati legati agli stupefacenti. Dalla perquisizione personale effettuata sul posto sono poi saltati fuori tre involucri di celofan contenenti circa 40 grammi di marijuana che il giovane aveva ben nascosto dentro agli slip. I successivi approfondimenti investigativi della squadra mobile hanno poi permesso di risalire al domicilio nella frazione di Giovi dove è scattata anche la perquisizione domiciliare. Qui i poliziotti hanno trovato e sequestrato buste di plastica con dentro marijuana per un peso complessivo di 1,7 kg e due panetti di hashish di 270 grammi, il tutto occultato dentro ad un armadio. È stato poi rinvenuto un bilancino di precisione e 2.000 euro in contanti custoditi in un barattolo e tutti suddivisi in banconote da 10 e 20 euro, denaro che è stato sequestrato in quanto considerato provento dell'attività di spaccio. Il 27enne è stato trasferito nel carcere di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria sia per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che è perché gravato dal provvedimento restrittivo.